ciao amici di youtube bentornati in questo nuovo video io e Akeren vediamo il benvenuto siamo qua oggi per pullare Butil lo so ho pullato tutti i personaggi peramoni praticamente lo so erano tutti belli oggi proviamo anche Butil ma non ci fermiamo a questo perché Butil anche se dobbiamo perdere il 50 e 50 perché si ho il 50 e 50 lo prendiamo il problema è che accanto c'è anche Fush One che mi manca e mi piacerebbe tantissimo prendere anche lei lo so un po un po arrogante come come scelta però ci proviamo ci proviamo quindi oggi facciamo l'in cerchiamo di portarci a casa entrambi al 50 e 50 non punto alle light code perché tutto non riesco a prendere poi mi do pace nella prossima pace non pullo niente faccio pausa però a sto giro dovevo per forza quindi io vi auguro buona visione non so se ci sarà un video unico con le pull anche dei ragazzi se no ci sarà un secondo video comunque vi auguro buona visione e ci vediamo ai prossimi video vediamo siamo a pt 41 andiamo a pt 51 si parte gagliardi quattro stelle si parte vediamo vediamo ok allora vediamo i quattro stelle ve le ho detti le light con non mi ricordo a che costellazioni l'unica che mi interessava un po costellare era perfect timing ma l'ho finita nella pace scorsa quindi bene pull perfetto pull e quindi non so effettivamente se c'è una light con in particolare in questo momento e vorrei non credo quindi vabbè 61 let's go quattro stelle allora io in questo gioco non ho gli early pity non so come mai sto gioco da questo punto di vista mi odia non ho gli early pity motivo per il quale di solito mi porto sempre a metà pt del bundle dopo per mi sembra di che pulli meno mi sembra l'impressione di trovarlo a pt più basso però io di solito sopito da non avergli early pity quindi ce ne facciamo la ragione ok vediamo un luca e 5 me ne manca uno quindi fa sempre comodo sono personaggi che se finisco diventano tutte pull ultima multi prima delle singolette 71 4 stelle vediamo se mi asce l'ultimo luca così finisco anche lui sarebbe top vediamo vediamo ok vediamo chi è il 4 stelle abbastanza affine un'altra io in realtà quando vedo lei oggi sono contenta io quando vedo lei oggi sono contenta perché sono tutte pull e io so che oggi ho bisogno di pull perché devo prendere non un personaggio ma se riesco due che non riesco però insomma ci siamo capiti quindi bene grazie pela sei un incubo però grazie ok 72 liscia 73 liscia e 74 ultima singola liscia perfetto molti del 5 stelle o la va o la spacca se magari lo perdiamo se mi da subito anche lui in multi sarebbe bellissimo vero raga ma come sarebbe bello se la tiriamo la multi magari lo perdiamo e sempre in multi troviamo anche lui sarebbe top top tanto molti del 5 stelle molti del 5 stelle ticket ce l'abbiamo almeno non si va oltre vediamo un po' come va ok vediamo un pochettino 6 ok 75 76 77 la e6 di luca quindi l'abbiamo finito 78 79 niente vai luca e vabbè ci sta raga li ho vinti tutti mi andava cioè oggi me lo sentivo sono tranquilla un'altra pull bene 2 3 4 dai si li avevo vinti tutti e anche la uh questa mi mancava questa mi mancava top va bene 5 e niente da fare la mia vita ancora pela chiamavo le singole pela allora 6 7 dai pela pela chiamatemi pela 8 poi considerate che della prossima patch non mi interessa niente 9 quindi anche se arriva a 0 pull per la 2.3 non è un grande problema e 10 ok così adesso possiamo fare le multi liscia bene allora siamo a piti 10 si riparte speriamo magari nella prima metà del piti così ci avanza qualcosa dai 10 andiamo a 20 prima metà del piti ok liscia ma io non ho gli early piti la mia unica fortuna in questo gioco sono i 50 e 50 però gli early non esistono quindi quindi sì non sono una quantum player quindi di jade non mi frega nulla grazie pela grazie meno male pela c'è meno male pela c'è ok doppia pela ragazzi si fa festa però ce l'ho precisa a metà multi sono un po' triste la voglio all'inizio molti ne abbiamo doppia ok siamo a 20 andiamo a 30 liscia no raga ma facciamo il piti intero facciamo il piti intero dobbiamo sperare in un miracolo dopo sul banner di fushwan qua facciamo il piti intero lo so già perché so come funziona il mio account oh ma che gioco da un anno a questo gioco ok andiamo hai un'altra pela per favore vabbè anche luca è vero ora anche luca è vero c'è anche luca dai raga bravi 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 è vero anche luca grandissimi ok 40 anche il luca nazionale luca pelato da immaginarselo a parte che pela non è pelata dovremmo prima immaginarsi pela pelata pela pelata sono malissimo ok vediamo dai un altro luca si adesso anche un'altra pela così sono tutte full Arlux non ti vuoi pelare ok oh ci stiamo avvicinati all'inizio multi fra un po' beccheremo il doppio 50 avevo perso un attimo il conto oh meno male ok ok dai raga meno male va bene poteva andare meglio però avevo paura di un piti intero va bene va bene dai 50 ci sta top 50 ora vediamo a quanto bene 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 almeno si tira di più di là ok dai vediamo dov'è 41 42 40 vabbè c'è anche lei effettivamente 43 44 i gatti al piti dei gatti 44 penso di aver mai trovato nulla in vita mia 44 44 effettivamente è un bel micio piti 7 con il 50 e il 50 ci mancano due per finire anche hook a sto punto la vorrei finire così almeno anche quelle diventano tutte pull piti 8 piti 9 perfetto e 5 ci manca l'ultima e piti 10 così almeno altre pull e piti 10 eccoci qua sei diventata la mia preferita renditi conto renditi conto tu sei diventata la mia preferita qualcuno qualcuno ragazzi cosa sta succedendo va bene ok va bene va bene ok possiamo andare siamo a piti 10 andiamo a piti 20 piti 20 4 stelle vabbè sì qui non ci spero nemmeno ma ragazzi nemmeno sotto tortura nemmeno dai piti 20 vediamo l'ultima di hook così almeno si è finito e si hai tutti pull se mi dà una pull invece va bene uguale quindi alla fine va bene tutto ok tu sei sempre bello e niente è andata così ma lui è sempre bello lo accetto 30 lui è sempre bello ci possiamo fare niente tra l'altro quella light cone penso di averla tipo doppia rifa in 10 cioè io penso di averla doppia rifa in 10 raga doppia rifa in 10 ora c'è sicuramente un personaggio del banner quindi o è la pull o è la ultima di hook vediamo una pull un arlux un arlux 40 liscio allora nella scorsa c'è uscito il 5 stelle qua non qui cioè nella scorsa pullata nella prossima multi c'è stato il 5 stelle però ora non mi sembra il caso di chiederlo due volte allo stesso piti ok potremmo prendere un doppio 4 stelle magari però ce l'ho all'inizio ce l'ho alla fine della multi quindi cade un po' male vabbè vediamo la mia amica lei la numero 1 ok ultima multi con le jade eeeh andiamo a 50 piti 50 liscia eh chiaro 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 non succede che due volte mi esca nel solito pela numero 1 ragazzi dove siamo arrivati a volere pela cioè mi sento pazza io che voglio pela pela numero 1 ma vedo denuncia allora vediamo mancava anche a me la volevo un sacco marina infatti quando l'ho trovata prima mi è sceso dalla crevuccia pensando a me quando grazie per la pool a me quando e sono molto contenta che bello che bello sono troppo contenta facciamo per grati andiamo a 60 si va per grati perché se magari è qua e si vince non è qua però insomma evitiamo faccio a mo' di risparmio troppo bello quel sound dei baby emozionata a sentire Rudy cantare bellissima vediamo si tutti e sei oh top almeno quando questi cesti torneranno saranno tutti pool perfetto perfetto tutti pool benissimo ok questa ce l'abbiamo avanti un'altra si va a 70 70 ok liscia io vado al soft vado al soft vado sempre al soft in questo gioco vado sempre al soft allora però ve l'ho detto ho sculato ora non con i piti no con i piti non ho sculato un cazzo mai però ho visto 80 50 e 50 quindi oggi ci sta usare un po' di pool quindi non sono per niente rammaricata anche perché so che prossima patch skipperò tutto quindi mi sfogo bene adesso perfetto brava mi sfogo bene adesso perché poi dopo non ci pensiamo più allora ottimo bene adesso abbiamo le quattro singole e poi la multi del 5 stelle fammi vedere quante sono sono già quattro singole queste sono tre quindi ne compro una facciamo prima le quattro singole perfetto quattro singole con queste qua allora 71 ok 72 pensiamoci cosa la prossima patch no 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 la prossima patch li salutiamo al massimo si recupererà più avanti 73 e 74 ok adesso facciamo la multi è da da quando sono usciti wow wow e argenti che non faccio una patch di skip e il mio account ne ha bisogno perché ne ho presi veramente tanti di personaggi così nel frattempo sistema anche qualche quattro stelle ok raga multi del 5 stelle allora se esce bene se non esce io qui ne ho altre 23 vabbè che le tiriamo tutte ovviamente e poi comunque continuo a fare le varie cose penso di riuscire in questi 15 giorni dovrei arrivarci vicino a prenderla stotta vediamo 5 stelle vediamo come va se è quello giusto oppure no vediamo vediamo allora ok 75 76 una pull 77 78 78 oh no l'inculata è la cosa più bella è la cosa più bella loro dovrebbero mettere un'animazione che fa capire che è quello del permanente questa è sempre l'inculata più bella dovrebbero mettere qualcosa 3 4 perché non è possibile 5 6 ok vabbè ribilanciamo quelle di 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 Luca 40 c'è traffico eccoci 5 stelle Luca in chat 5 stelle early fifi dai a meno anche se va male siamo a pitipasso ma deve andare bene allora allora siamo a 31 con questa singola 31 32 33 34 the trend of the universal market che mancava non c'era ti prego stronzo esci gnocco c'è stato un attimo un cambio di personalità ti prego stronzo esci a capo gnocco c'è stato un attimo un momento bellaggato 35 36 io so Gesù 37 47 non sei boothill 43 5 stelle di nuovo a pitipasso preachers oh voglio tornare dopo eccoci dov'è Ce l'abbiamo Ma sempre nella solita multi raga Ma non c'è il pifi in questo Ma sempre nella solita multi Dai forza Forza portaci fortuna Sì Sì Vamonos Multi del 5 stelle Ci siamo Dai both heal 75 76 77 Sì 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 Vai 5 stelle Sul drop Ti prego Sei tu Ti prego Sei tu 65 66 Ma pull 67 67 68 Yes Qua nel mezzo Sì 71 71 71 Aiuto 71 71 Aiuto È qui È qui È qui È qui È qui Quindi prima del soft È qui 66 67 67 67 68 Se dovessi sceglierne una quella di meco Ok 69 70 71 72 Adesso arriva Clara 73 73 Adesso arriva Clara 74 64 Un saluto ad Alice Signorino prego a casa Grazie Dai vediamo 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 se è lui Il 50 Fuxuan Arriva a casa in qualche modo Sì La faremo arrivare comunque Ma intanto ci prendiamo lui Che è garantito Esatto Liana a noi questo salone di soddisfazione e di tranquillità non l'avremo Quindi godiamoci questo momento In cui sappiamo che la porta si apre e c'è lui ad aspettarci Esatto Allora 75 Quindi ha vinto il no 76 77 Eccolo Piti 77 Oh Eccoci Ci tende anche la manina Salve 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 Questa schermata sarà molto bella quando la vedremo Esatto Ok 1 Adesso guarda arriva Arriva eh 1 2 3 4 Ciao Luca 5 6 L'ultimo 7 Ciao Luca Ma è sempre il doppio C'è sempre il doppio Il miracolo Il dream Votere in waves Vediamo Per favore Fuxi 8, 5, 6 Io non ci voglio ridere Non ci voglio ridere Siete tutti Siete tutti Momento derivatissimo questo Momento derivatissimo Silezio Oh no No Però a tutti i 11 Fuxi 20 Fuxi No 20 Dai No Vabbè ragazzi Non è possibile Non è possibile Inventi Non è possibile Non è possibile Non è possibile Non è possibile No A 11 di nuovo A 11 A 11 Fuxi Chino E 4 E 4 Prima Prima Ok Prima Io sono pronta Ero tranquilla Io diciamo Vabbè ragazza Ok Simbolo dell'ant Dai 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 Ti amiamo Sì Sì Dai Sì Pure una singola Prima Ci siamo anche risparmiati Una multi Oh Stai sentivo male Il frattempo Vabbè Sì No No Dai Invece racconti Cosa vieni visto Io ho 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 visto Lui Ho visto Ok Ho visto Pallesarsi Signalcine No per carità Per carità Togliamolo su Via Via 50 Qui ci sono gatti Mau 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 Eccolo Mau mau Eccolo Eccolo Dai Dai amo Speriamo Dai amo Speriamo Dai amo Speriamo Dai 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 Ti prego Universo Mondo Allora 41 Dai gatti 42 43 43 I gatti 44 44 44 No Poi c'è anche Valentino Rossi Eccolo Valentino Rossi 46 Valentino 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 Yes 34 Mi ha condivido Una shway Eccolo Eccolo C'è davvero Io non ce la faccio Io non ce la faccio Mi sento No è vinto anche questo Li perdo tutti io dopo Come sempre Quando puliamo Lo stesso giorno Basta piangere Veramente Questi giorni Amo il dodo Il mio meglio Allora 25 Silenzio 25 Avanti 26 27 28 28 Non ci credo La bambina 76 Eccola Bene dai 76 Questo gioco Che ci ricorda Che esiste ancora Un soft pity Soft pity Ormai dimenticato Dagli altri giochi Della universe Qui c'è ancora Genshin non esiste più La 76 Qua la 76 E' Fushuan Eccola La rosina Le dili tutte Vai sei fatta Vai 10 5 stelle Eccola Vai Fatto Easy Easy Eccola Ecco Non andiamo a scrivere Spero Spero Sulla decima Allora Stà trotta No Mi lamento di niente Onestamente Raschium Raschium Fedeli Tornai Tornai E vedi Tornai E vedi Il vostro Il vostro Ma butta le tutte Tanto Ma sì dai Cioè non vi ho capito No perché Liana voleva tornare E andare a singole Eccola qua A pt4 Perché voleva risparmiare Nel caso poi Il prossimo personaggio Sì ma eravamo a pt0 Io non pensavo Ucchissi il 5 stelle Le ho detto Tirano a tutti diretta Ma che cazzo Tiri le singole Siamo a pt0 Scusami Ma poi Voleva tirare Ma poi aveva intenzione Tra le tutte Quindi erano almeno 10 singole Tirava molti Cioè Ok 70 Ti stiamo avvicinando È qua Early Early Molto Prima del dovuto però Ti prego Ti prego Fushi Ti prego Ti prego Sì tu Allora Dai speriamo 61 62 Buona E 3 64 65 66 Oddio Sì Vinto Fifi 66 Sì Abbiamo vinto Che bello Troppo contenta Golex Poi giochi da poco Quindi ti mancano i personaggi Quindi per te È ancora più importante Averli Quindi benissimo Sono troppo contenta Grazie falso lama per la rosa Ok Via Abbiamo cliccato insieme I e Marghe 5 stelle Intanto Shannon Si va all'84 Quindi non è scontato Quindi molto molto bene Molto molto bene Dai Dai Easy 75 Prima singola della multi Manca il tempo di realizzare Fatto Dai 71 Forza Vieni dalla marghe Eccoci Ci siamo Ci siamo Dai È questa È questa È questa Dai Dai Sì Abbiamo vinto anche l'arma Che bello Morgan Che bello